Si dice che ormai gli rimangano solo altri due anni di quelli che la donna del sogno gli aveva detto che gli rimanevano. Il tempo passa a Gisli e a Gertiusfyrth. Tutti i suoi sogni gli ritornano addosso e ha difficoltà a dormire. E ora la donna malvagia del sogno lo visita sempre più spesso, nonostante ogni tanto vada a trovarlo anche la donna buona. Così accadde una notte che Gisli sognò che la donna buona dei sogni venne da lui e sembra che cavalcasse un cavallo grigio. Gli chiese di andare con lei alla sua dimora e lui la seguì volentieri. Giunsero dunque a una casa grande quasi quanto una sala ed ella lo fece entrare e lui credette di vedere cuscini di piume sulle panche e che l'interno fosse ben arredato con qualunque cosa. Ella gli offrì di restare lì e di essere felice. Qui andrai quando morirai e passerai il tuo tempo nella beatitudine e nella tranquillità. Poi si svegliò e cantò questi versi su ciò che aveva sognato. Ecco la dea mostra il suo potere, lei mi pone sul suo palafreno grigio, mi fa cavalcare fino al suo pergolato, lei mi dà il benvenuto ogni giorno, tutte le sue parole davano un po' di conforto, volendo sempre essermi amica. Nelle mie orecchie risuonano tenui suoni e quella musica ancora non conosce fine. C'erano molti cuscini assonnati, ripartire da qui sparsi sulle panchine in quella sala, dolcemente sedevo come un cigno sui flutti, ah il mio cuore ricorda tutto. Inoltre quella adorabile donna mi pose su un letto di morbidissime piume. Grato per l'allegria che mi produsse, subito il mio viso si dimenticò di aggrottarsi. Allora parlò apertamente quella donna generosa, potente capo, rovina del tuo nemico, affrettati qui senza essere inseguito da nessuno, la morte ti libererà dal dolore. Allora tu, seguendo il discorso, tutti questi tesori li chiamano tuoi, anche me vincerai corteggiandomi, felici noi come uccelli appena volati via.